Per coordinare le iniziative Volt a fornire ospitalità agli ucraini in arrivo anche sul territorio provinciale, il prefetto di Teramo Massimo Zanni ha convocato il Comitato per l'Ordine alla Sicurezza Pubblica, a cui hanno preso parte il sindaco di Teramo d'Alberto, il presidente della provincia di Bonaventura, il direttore della Asli Josia, la Caritas, le Forze dell'Ordine e anche il vescovo di Teramo, Leuzzi. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di attivare in maniera coordinata le strategie di accoglienza per profughi in fuga dall'invasione russa e avere un quadro dei luoghi dove ospitarli. Un'unione importante soprattutto per darci un metodo, è fondamentale per affrontare l'emergenza che stiamo vivendo e che si inserisce all'interno dell'emergenza pandemica in modo ordinato e in una modalità che consenta a tutte le istituzioni di avere una rete di informazioni interna che verifichi il numero di tutte le persone che accoglieremo perché il tema fondamentale è quello dell'accoglienza in questo momento, un'accoglienza ordinata e per poter dare anche delle informazioni e delle comunicazioni unitarie ovviamente ai cittadini e a tutti coloro che in questo momento si stanno mettendo a disposizione anche e mettendo a disposizione spazi per favorire appunto nel modo più ampio l'accoglienza. Siamo in una fase di incertezza ancora ovviamente sia sulla durata del conflitto che tutti vogliamo cessi subito ma anche sul numero delle persone che dovremo accogliere. Ecco perché io ho chiesto che ci sia assolutamente una rete una rete sinergica con il coordinamento della Prefettura, ringrazio il Prefetto, con la presenza dell'Asda perché c'è un tema sanitario importante. Domani come Presidente Anci parteciperò al tavolo convocato dal Presidente della Regione Abruzzo che è commissario delegato per l'emergenza che dovrà sicuramente dare delle linee guida che tutti i sindaci poi saranno chiamati a dover attuare e mettere in campo. Ecco perché anche su Teramo subito dopo la definizione di linee guida convocheremo un'assemblea con tutti i sindaci insieme al Presidente della provincia presumibilmente al Parco della Scienza o comunque in altro luogo idoneo che consenta appunto di mettere in campo delle linee che però devono essere centrali, verticali definite a livello regionale perché non possiamo correre il rischio di gestire in modo poco ordinato questa emergenza che resa ancora più complessa, come dicevo prima, dall'emergenza sanitaria in corso.